Siamo qui anche in presenza del consigliere regionale Stea, d'altronde anche papà di uno dei ragazzi che ha realizzato questo interessantissimo mensile. La presenza non solo del papà ma del consigliere regionale, la veste regionale. La presenza è nel battesimo di questa novità da parte di questi giovani che si sono adoperati nel costruire questo giornale mensile, questa rivista mensile e spero che riprenda tutte le problematiche che stanno sia a livello comunale, a livello regionale, a livello nazionale su problematiche riguardo la politica giovanile, su quanto riguarda l'agricoltura, su quanto riguarda il sociale, la sanità, problematiche importanti in particolar modo per quanto riguarda la regione Puglia. Spero che oltre a problematiche di attualità, di interesse nazionale, vengano prese in considerazione le problematiche reali della nostra amata regione Puglia che sono tante e spero che loro come giovani intraprendenti che sono il futuro della nostra regione possano adoperarsi e collaborare a costruire un futuro migliore nella nostra regione Puglia. Quindi possiamo dire che la regione Puglia è dalla parte dei giovani soprattutto per realizzare il loro futuro? La regione Puglia guarda con attenzione i giovani perché i giovani sono il nostro futuro, è la linfa del nostro futuro e spero che non ci sia un esodo da parte di menti che oggi crescono nella nostra regione e poi vanno a finire in Germania, vanno a finire all'estero sia come dottori, come ingegneri, come professionisti che purtroppo, ahimè, dopo aver fatto tanto lavoro, tanti studi nella nostra regione, per problemi di lavoro e di mancanza di lavoro sono costretti ad andare a fare gli emigranti. Spero che queste realtà, questi cervelli possano rimanere nel nostro territorio e possano valorizzare sempre di più la nostra amata terra.